Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo qui a vederlo Siamo qui a vedere Questa squadra affrontarsi La promette spettacolo questa partita Strappo Acquista Prende il corpo di Antonio Di Stefano Poi Lauricella Prova in trenare di rigore Arriva a Casalicchia a spazzare via Ma rimangono sempre lì i mambo number 5 Acquista Corto per Lauricella Capisce tutto che per Di Stefano Che cerca di lottare con Acquista Poi Antonio Di Stefano Cerca di dargli una mano Controvede Wambas Pericoloso Antonio Di Stefano Riporta la palla sul mancino E c'è l'1-0 Wambas Antonio Di Stefano Grandissimo controvede Wambas Che hanno subito fino a questo momento Ma sono stati bravi a ripartire In controviere velocissimi Proprio con Antonio Di Stefano Lui spesso esce per la fede Alla vera difesa E in questa circostanza Punisce gli avversari 1-0 Wambas Prima conclusione vera In porta dei Wambas Sembrava Diciamo che il vantaggio Un po' sorpresa Perché stavano Facendo male Parecchio Dalle parti di Correnti Mambo number 5 Acquisto Lauricella Tutto campo oggi Lauricella Poi Ciancimino C'è spazio per lui Chiama pallone lauricella Ciancimino lo vede All'ultimo Chiude bene Caserica Occhia a Bresciano Che va a puntare Acquista 2 contro 1 Palla per Gabriele Di Stefano Il gemene di Stefano Stanno mandando in ginocchio Mambo number 5 2-0 Wambas E sì Anche una volta In controtempo Il portiere Dei Mambo number 5 Arriva questo 2-0 Di Giovanni Di Stefano Gabriele Di Stefano Correnti Con le mani A cercare Gabriele Di Stefano Restato da Grasso Ancora Gabriele Di Stefano Che sbaglia Attenzione a Grasso Esce Correnti Grasso Grasso la porta è vuota E stegna Grasso Accorce le distanze Mambo number 5 6 minuti E già 2-1 Pasticcio difensivo Questa parte di Gabriele Di Stefano Che tarda A passare questa palla Arriva Questo 2-1 Che riapre il match Con Grasso Sbaglia qui Antero Di Stefano Poi limite danni Si riprende il pallone Ancora Di Stefano I due che dialogano Di Stefano Funziona bene Questa coppia Di Stefano E 3-1 E funziona bene Sì Il tandem Di Stefano Ancora Una volta Antonio Di Stefano Lui che è difensore In realtà Però Spesso e volentieri Avanza la sua posizione Trova la doppietta 3-1 Ancora Pasticcio in fase difensiva Poi di Mambo number 5 Tutti in famiglia Questo vantaggio De Wambas Vediamo come reagiscono Qui Mambo number 5 Casalitto Allontana Calcio d'angolo Attenzione Ma la mette dentro Spazza via Qui porteremo Cavoro Questa una volta Mocavero Che si salva così Prusciana La mette dentro Voto di Stefano Manca Salicchio A Pesciolino Segna il gol Del 4-1 Eh sì Solo Soletto Sul secondo palo Casalicchio Non può che distendersi E appoggiarla in rete Incredibilmente Non c'è nessuna marcatura Su Casalicchio Che non poteva sbagliare 4-1 Wambas adesso Come un pesciolino Casalicchio Reza il gol Del 4-1 Un vantaggio Che mette un po' Di tranquillità In casa Della squadra di Sarcone Ma questi Mambo Che fine hanno fatto Ine da dire Eh però Adesso c'è tanto tempo Per recuperare Ricordiamo che C'è questo la ricella 3-7 gol Già la prima giornata Che può fare davvero male Eh sì Davvero i pericoli principali Fino a questo momento Per la retroguardia Mambo number 5 Attenzione Casalicchio Un'era di rigore La palla è lì A vuoto Qui Mocavaro Poi Bricciana Tiro sporcato E poi Capri di Stefano E poi bravissimo Qui Mocavaro A tenere ancora i suoi in gioco Grazie anche a tutti Della traversa Arriva questo Salvataggio incredibile Del portiere Burrafato Poi Bricciana Va a puntare Ciancimino Gran giocatore Bricciana 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 Bravo Qui Mocavaro A distendersi E a mandare la palla In calcio d'angolo Eh sì Con le punte delle dita Si distende Il portiere è salvo Non è finita Attenzione Allontana Ciancimino Ciancimino Va a disturbare Bricciana Attenzione Che vince Ben due rimpalli Poi governare Riesce a limitare I danni così Ciancimino Balla per Grasso Anticipate la burrafata Recupera Massaro Massaro è il destro Sul fondo La velocità di Casaricchia Adesso c'è i mammi Che provano a uscire Attenzione Grasso Che errore di Grasso Che sbaglia Un gol a porta vuota Qui Poteva rapire qui il match Eh sì E' stato bravissimo Anticipare il portiere in uscita Lo mette a sedere E poi clamorosamente Sbaglia a porta vuota Occhio D'altra parte Sarkone Sul fondo Ma sbaglia qui il lancio Allora Ancora Di Stefano Avanza lui Ancora Di Stefano Il suo bancino Ma che gol di Antonio Di Stefano Questi guambas Sono davvero spettacolari Quest'oggi E' grande protagonista Antonio Di Stefano Con una grandissima Di casetta Che tra l'altro Vale il bonus Di 0,2 Sta trascendo Di solo questa vittoria Antonio Di Stefano Grande gol questo Che gol Davvero Una bella perla Uscita dal numero 3 Vediamo come risponderanno Qui mamma number 5 Acquista Guarda il ciancimino Occhio peccadili Può tirare Vuole questa apertura Però per Grasso Corrente Salva così 5 a 1 Il vantaggio Dei guambas Tutto Questo vantaggio Tutto in famiglia Di Stefano Che stanno portando Al successo Questi guambas Ma c'è ancora Un secondo tempo Da giocare Sì Il primo tempo Speriamo come il primo I nostri campioni Sono fortissimi Però all'inizio Qualche errore in difesa L'avete fatto Mi ha fatto uno E abbiamo preso il collo Però Stiamo cercando di migliorare La difesa No va bene Non ci possiamo mangiare Va bene Per il secondo tempo Che partita sarà Altre 5 a 1 Speriamo Speriamo Altre 5 a 1 Ok in bocca al lupo Allora Mambo Questo 5 a 1 Un punteggio pesante Della fine del primo tempo Approccio sbagliato Cosa? Tutti errori nostri Sì La bravura dell'avversario Magari corre tanto Ma tutti i gol Sono errori nostri Dobbiamo migliorare La seconda partita Giochiamo tutti insieme Dobbiamo migliorare dietro Magari vediamo di cambiare modulo Perché questo 2-2 Non ha portato da nessuna parte E vabbè Vediamo di rietterci in partita 5 a 1 Pesante ma Pissa La palla è rotonda Bocca al lupo Credo Lauricella Porta palla a lui Bello questo taglio Per acquista Capisce tutto però Antonio Di Stefano Poi Bricciana Che ha giocato anche la sua Ancora Bricciana Lauricella però Gli ruba il pallone Ancora Lauricella Porta palla a lui Lauricella Poi fermato In una scivolata pulita Da Antonio Di Stefano Che porta palla Ancora Di Stefano Infermabile Palla per Sarcone E poi qui Manca per pochissimo Il 6 a 1 Antonio Di Stefano Tutto molto bello Questa scena di Wambas Protesta però Per il number number 5 Attenzione Errore difensivo E Sarcone Fa partire un bolide Imperabile Per Remmo Cavero Ed è 6 a 1 Eh si Il 6 a 1 di Sarcone È fondamentale Vale lo scarto Di 5 gol Momentaneamente E' un po' distratto Botta di prima intenzione Sarcone Inizia il 6 a 1 Attenzione qui Grasso Il destro di Grasso Stavolta L'aveva presa bene La porta Ma ha trovato il palo Ancora governale Ancora Grasso Lontana qui Burrafato Attenzione Ancora Non è finita Lauricella Il rigore Lauricella Ancora di Correnti Veloce E' qui bravissimo Correnti Ma per strada Bricciana Governale Poi va lanciare Grasso Quella che però Arriva direttamente Nelle mani di Correnti Bricciana E' scattato Burrafato Bricciana però Deve liberarsi Della marcatura Di governare Tipo dell'Antonio Di Stefano Che avrebbe servito Di Stefano Un tocco sotto Delizioso Questi Stefano Fanno veramente paura E' un po' carissimo Di Antonio Di Stefano La pensazione Da incorniciare Quest'oggi Migliore il difensore No che mi mettete un altro Ma il migliore il difensore Il centrale No che mi mettete un altro E' qui Gabriele Di Stefano Giustamente elogia Il fratello E comunque questo è un bel gol Davide Ma anche quello precedente Era un bel gol Ancora i Wambas Che insistono Bricciana Realizza il gol Anche lui Proprio lui E aumentano il vantaggio Questi Wambas Trova i gol Anche Bricciana Vida Leonardo Attenzione Massaro dall'altra parte Completamente smarcato Massaro E Correnti Scusate Si guadagna la pagnotta così Attenzione Grasso La schizza male Qui che viene di Stefano E poi Questo tira sorpresa Che ha visto all'ultimo Correnti Ma è stato bravo Quest'ultima Devere in calcio d'angolo Lo stesso correnti Ma è piaciuto tantissimo Scusate lo scorso anno Occhio Dall'altra parte Ancora i Wambas Con Sarkone E questa è una perla Del numero 11 De Wambas Minuto 14 Sarkone realizza la doppietta E si va a prendere L'applauso Dalla tribuna Doppietta di Sarkone Non uscire Mambo Si continua a prendere vantaggio Lauricella La finta di Lauricella Che manda il bar Casalicchio E però qui correnti Evita l'Eurogolla La Lauricella Occhio adesso a Casalicchio Palla per Sarkone Sarkone carica il destro Sul fondo E subito Lauricella Prova a battere A sorpresa Attenzione Questo contipede È pericoloso Preterieve e Bricciana Bricciana È arrivato sul Cimila E poi smuca L'altro di Stefano Gabriele Per il suo secondo gol personale E si Contra il piede Inicità Da parte dei Wambas Bravissimo Uscire palla a piede Bricciana Vince anche un rimpallo Con il portiere Poi Gabriele di Stefano Trova la doppietta personale Il 10 a 1 Dei Wambas Un punteggio adesso Molto più rotondo Grazie alla marcatura Di Gabriele di Stefano Occhio D'altra parte Mamma la pefra Che non ci stanno La Lauricella Ha provato a Rendere questa sconfitta Palla che però Termina fuori La scarica molto bene Su Ciancimino Che però sbaglia Recupera comunque In qualche maniera Grasso Grasso contro Casalicchio Poi sbucca Bricciana Che fa partire Il contropiede Apertura per Sarcone Sarcone E Mugavro Col piede a salvare Di un giocatore Di Mamma No.5 Grasso Dietro per Casalicchio Casalicchio Attenzione Smarcato completamente Gabriele di Stefano Che ha tutto il tempo Per far imbalzare Questa palla E realizza il gol Dall'11 a 1 E si ha tutto il tempo Per palleggiare E poi calciare Di controbalzo Tiro potentissimo Trova la tripletta Anche Gabriele di Stefano Adesso manca Solamente Sarcone Casalicchio Gabriele di Stefano Disturbato Lascia un cimino Attenzione Grasso Completamente smarcato Grasso Che trova il suo Secondo palo Qui Si era girato molto bene Ma è stato sfortunato Eh si Tanta sfortuna Per i Mambo No.5 Secondo palo Personale C'è Bricciana Solo Soletto E infatti lo vede Gabriele di Stefano Bricciana E sulla linea Salva Governale A verità Il gol del 12 a 1 Governale Che comunque A mio visto È stato uno dei migliori Si è comportato bene Ma La Bricciana Per Grasso Grasso Con l'estuto Per due pali E finalmente Lo trova il gol Grasso Col gol che Diciamo Rende meno amaro Questa sconfitta Però diciamo Qualcosa si deve dire Non serve a molto Questo gol di Governale Però diciamo Adesso magari A quota 2 Potrebbe puntare Al terzo gol personale E magari Rendere meno amaro Questa sconfitta Gabriele di Stefano Prove a seguire Col tacco Casalicchio In qualche minore Ci riesce Ancora Casalicchio Che lotta contro 15.000 La miglia numero 5 De Guambas Gabriele di Stefano Per il 12 a 2 Questi di Stefano Davvero Sono una brutta gatta Da parlare Per qualsiasi avversario Eh sì Poker Anche per lui I fedeli di Stefano 8 gol in 2 Quest'oggi Se non sbaglio L'archivio Governale 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 Tiro murato Da Antonio Di Stefano Poi Bresciana E Felice Qui La goleata De Guambas Che Diciamo Che si portano Ben avanti In classifica Da rivedere Questi Guambas Ben la prima giornata Seconda giornata Diciamo un po' Eh sì Mambo L'amore fa Che sono accati Tantissimo Dopo Dopo che la prima giornata Avevano ben impressionato Adesso I Guambas Si sorpassano in classifica Seconda vittoria Consecutiva Per i Guambas Che si cambiano Tra le le sorprete Più piacevoli Perché è una storia Che fa bene Dalla serie C Non diciamo fuga Perché siamo ancora La seconda giornata Però sono punti importanti Eh sì Punti importanti Per le zone alte Della classifica Stare a vedere Se riusciamo a mantenere Questo Queste Siete Siete utili consecutivi Vedremo Nelle prossime giornate Come andrà Ok Davide Ti ringrazio E ci vediamo alla prossima Grazie a te E alla prossima Guambas è completa Addirittura la società Pure qui A fare l'intervista Siamo solamente La seconda giornata Dobbiamo parlare Già di fuga Sì Sì La società dice di sì No Sennò si montano la testa Fughetta Fughetta Non hanno capito niente La fughetta Comunque è stata una bella partita Ci aspettavamo di più Forse qualcosa Degli avversari Mambo Però comunque Giustamente voi Avete fatto la vostra partita Realizzando tanti punti bonus Tranne che comunque Sarcone Che si è fermato a quota 2 Eh vabbè Ok un pubblico mai visto Abbiamo paura all'ultimo minuto Di rischiare il pareggio Come come? Abbiamo paura all'ultimo di rischiare il pareggio Eh vabbè dai Comunque questi Di Stefano Già Oggi Anche lui Non ha fatto passare per intervento Parliamo bene anche del portiere Che ha fatto il parato Anche lui Si è fatto per notare Ma se voi non mettete la vostra partita E voi non mettete la vostra partita E voi non mettete la vostra partita 50 euro Cioè io dico E vabbè E la top 11 tutti i one pass Vuol dire che Addirittura Dico facciamo giocare gli altri Sette undicesimi one pass Sette undicesimi Ounque vi siete divertiti oggi Ma occhio perché la posta Ci sono gli astemi Ancora non siamo al 100% alla posta Gli astemi Arriviamo preparati E vabbè Quanto meno arriviamo al match Simone è di prima Aliotto Insomma una squadra molto tosta Comunque arriviamo al nostro momento migliore Abbiamo fatto 12 gol Noi giochiamo ogni partita Si chiama astemi Si chiama il mambo number 5 O l'unistrunz Noi proviamo sempre Sperando che Dando sempre il meglio Sperando di vincere Va bene ragazzi Congratulazioni Questo brisciel ha promosso One pass Promosso a fine voti Ok alla prossima Ciao ciao